Silvia non è cominciato come avreste voluto? No, indubbiamente non è cominciato come avremmo voluto, avevamo un bel vento, abbiamo fatto due prove, la prima siamo posizionati a metà linea in partenza, durante l'ultimo minuto ho fatto un salto sinistro, infatti le prime dieci barche in Boa non sono riuscite a partire, ma era molto congestionata la zona, quindi non ci siamo sentiti andare lì, poi ci siamo trovati il solito sotto che steccava, quello sotto che schiacciava, siamo rimasti chiusi un po' a panino, siamo dovuti virare e andare a destra, noi volevamo andare a sinistra, non so per quale strana ragione, non ci siamo fidati poi invece a tornare a sinistra, dove ci sembrava c'era più pressione, comunque siamo riusciti a recuperare il recuperabile, finire noni la prova, la seconda invece, stiamo ancora un po' elaborando, partiti di nuovo di sinistro, non eravamo tra quelli in Boa che non sono riusciti a partire, abbiamo strambato, ci siamo partiti dietro tutti, in realtà non avevamo messi male, finché ci ha strambato davanti, molto vicino a un greco, infatti stiamo decidendo se procedere o no, abbiamo sventato, abbiamo orzato, ma l'abbiamo preso in pieno, nel dubbio abbiamo fatto il 360, ovviamente facendo il 360 ti trovi un po' dietro nella flotta dove c'è gente un po' pericolosa e poi una volta che sei dietro è proprio un po' difficile a recuperare, vabbè, così. Ok, risettiamo e domani è un altro giorno? No, no, altro che domani, tra... Già, voi avete la terza, tra un'ora, esatto. La terza e quarta, quindi adesso mangiamo, dobbiamo riparare la prua che nella collisione abbiamo frantumato, risettiamo e ripartiamo. Ok, forza ragazzi, grazie. Ciao.